Anton Libe, che è stato elevato all'aristocrazia in riconoscimento di suoi servizi militari all'impero austro-ungarico, ha commissionato questo lavoro a Aydn per essere presentato come offerta all'importante chiesa di Maria Zell in Styria, che, grazie alla sua relativa prossimità, era una delle mete di pellegrinaggio preferite dai viennesi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.